Narra la leggenda che San Massimo, patrono dell'Aquila, che proprio oggi si festeggia, fu imprigionato durante le persecuzioni di Decio tra l'ottobre del 249 e il novembre 251. Condotto dinnanzi al prefetto di Aveia, Massimo non rinnegò la sua fede, neanche sotto tortura. Il prefetto gli aveva persino promesso la figlia, ma non abbiurò e alla fine fu gettato dalla rupe più alta della città. E fu seppellito da mani devote proprio qui, nella Valle dell'Aterno, dove oggi c'è la frazione di Civita e di Bagno, e quel che resta dell'imponente cattedrale di Forcona, risalente al VII secolo. Un luogo dello spirito, le cui pietre raccontano secoli, lasciato in abbandono, accerchiato ora anche dal brutto post-sismico, ovvero da edifici provvisori che però in Italia quasi sempre diventano definitivi. Beh, venga dunque la visita alla cattedrale in occasione della festa di San Massimo, organizzata dal FAI, con guida d'eccezione, il professor Redi. È un monumento simbolo, è un monumento simbolo della città e della storia del territorio aquilano e dell'Aquila. Da qui, nel 1256-57, fu trasferita la diocesi da Forcona all'Aquila, la nascente, l'appena nata città, che ebbe sede quindi, la dignità della sede vescovile. Quello che rimane e che si vede oggi è gran parte dell'edificio di XI secolo, ma esso insiste su precedenti strutture. Addirittura risale al 251, sotto Decio, le persecuzioni di Decio, l'uccisione e il martirio di San Massimo. Oggi, appunto, è la festa di San Massimo. Fu precipitato dalla rupe del Monte Circolo, da Ocre, di sotto, e quindi ebbe, in questa zona, non sappiamo purtroppo dalle fonti precisamente dove, la sepoltura, una specie di memoria, una chiesetta, una cappelletta. È probabile che o in prossimità o proprio sopra questa antica memoria venisse poi costruita quella che divenne la cattedrale di Forcona, San Massimo. Grazie.